Allora quindi presso l'arena BCC Fano nell'ambito degli spettacoli Teatro Sotto le Stelle, venerdì 24 luglio, andiamo a proiettare il film Gli Sbancati. Gli Sbancati 1, visto e considerato che stiamo già lavorando, abbiamo già fatto il primo ciak per gli Sbancati 2, daremo continuità a questa cosa quindi. Per chi non l'avesse visto, il film Gli Sbancati andrà proiettato presso l'arena BCC. Questo credo sia importante perché è un evento di grande importanza per Fano, per il dialetto fanese, ma anche per vivere delle storie, una storia quella degli sbancati che ha del quotidiano, che possiamo vivere tutti nell'ambito delle nostre giornate fanesi. Ed è anche importante per un altro motivo, perché Henry Secchiaroli con la Ego Film ha deciso di dare, di donare l'incasso alle compagnie teatrali. Molto importante questa cosa perché visto il periodo in cui andiamo, periodo di crisi, quanta difficoltà c'è nel portare in scena le commedie dialettali, direi che è veramente un bel gesto. Quindi grazie a Henry Secchiaroli mi rivolgo anche a voi, compagnie del teatro dialettale, venite numerose e portate tanta tanta gente, un'occasione in più per poter lavorare anche in un futuro. Quindi mi raccomando, venerdì 24 luglio, il film, il cult del teatro, il cult del dialetto fanese, Gli Sbancati all'arena BCC Tre Ponti, venerdì 24 luglio, mi raccomando.